L'epifania di questo 2021 è probabilmente un giorno che verrà assegnato nel calendario della storia. L'assalto al Campidoglio di miliziani armati, non precisamente ostacolati da poliziotti bianchi come loro e certamente simpatizzanti con il Presidente Trump, ha assegnato una svolta sia negli assetti domestici della principale potenza del mondo, sia nella sua proiezione internazionale, nel suo impero. È soprattutto questo secondo aspetto che noi indaghiamo nel nuovo numero di Limes, l'impero nella tempesta, ideale e pratico seguito del numero che abbiamo dedicato alla fine dello scorso anno alla tempesta sull'America. Che cosa sta cambiando dentro, che cosa fuori? Essenzialmente l'America si scopre sempre più fragile, frammentata, divisa, spaccata non solo politicamente ma anche socialmente e culturalmente e questo indebolisce non solo lo Stato, l'America, ma tocca inevitabilmente anche l'impero. Ogni impero che si rispetti si fonda sulla forza della sua nazione madre. Quando la nazione madre ammala, in qualche misura, in qualche modo, questa malattia si riflette anche nel resto dell'impero. Esamineremo quindi in questo numero ciò che accade in particolare nel rapporto con la Cina, dove sembra ad oggi prevalere un atteggiamento più modesto da parte dell'America. Per essere precisi, niente più cambio di regime, niente più rivoluzione a Pechino, ma ha un robusto contenimento e forse qualche compromesso sul commercio. Cambierà, sta cambiando qualcosa anche nel rapporto con noi europei, che fino a ieri davamo per scontato la possibilità di contare all'ultimo, se necessario, sul supporto americano. Gli americani sono troppo impegnati con le vicende di casa per occuparsi di noi, o comunque, quando lo fanno, lo faranno in modo sicuramente più misurato, meno intenso di quanto sia accaduto finora. Questo apre un margine di possibilità, oltre che di rischio, per tutti gli europei, in particolare per quelli più potenti, come francesi e tedeschi, ma carica di responsabilità anche noi italiani. Insomma, quando gli americani ci chiederanno, ormai annoiati, ma insomma che cosa volete da noi, sarà il caso di rispondere, ciò che per molto tempo non abbiamo mai fatto. Grazie a tutti.